Io guarda mi metto a ridere, non voglio piangere, mi metto a ridere. Ragazzi ma che partite abbiamo visto? Che partite abbiamo visto? Dopo 24 secondi, 24 secondi, già potevamo fare due gol. I primi 20 minuti, da grande squadra, proprio che ho detto mamma mia che lecce, bellissimo davvero, bellissimo. Io non so come si fa a prendere l'imbarcata, non so come si fa a prendere l'imbarcata, con i primi 20 minuti, dopo aver visto i primi 20 minuti che abbiamo fatto. Allora cominciamo un attimo a dire, se questo è Koulibaly, beh diciamo che, ecco voglio pensare che sia la prima partita, che voglio pensare bene perché se questo è Koulibaly ci siamo andati a caricare una cambiale ragazzi, però lasciamo perdere, è la prima partita. Male Kristović, male proprio, male male. Il primo gol loro è partito proprio da uno sbaglione di Kristović, che invece di dare la palla a Gallo, che stava andando da solo, cioè l'avrebbe messo in porta da solo, ha cincischiato, abbiamo perso il pallone e hanno fatto gol. Begaterale è davvero tanta roba, mamma mia quanto è forte quel begaterale. La difesa. Ragazzi, cioè il gol di Reteguino, puoi prendere gol tra Baschirotto, Gaspar e Gallo, e quello fa gol di testa. Capite? Zappacosta, Zappacosta sempre solo, sempre solo, sempre solo. Cioè Gallo e Dorgo devono pure capire che sì, attaccare va bene, ma anche difendere, anche difendere. E Zappacosta ha fatto 36 cross. Pierre, Pierre ha recuperato 80 palloni, 80 palloni ha recuperato, 180 palloni nel primo tempo e togli Pierre, togli Ramadani che stava giocando davvero male. E ragazzi, in banda, inconcludente proprio. Vabbè, diciamo è entrato la partita già a compromesso quasi, tutto quello che volete, ma il polacco, il polacco, cioè tu nel secondo tempo perché non mi metti il polacco? Non lo so ragazzi, davvero, sto davvero giù, sto giù, davvero sto ridendo di rabbia. La mia è una risata di rabbia, non è possibile, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Cioè, poteva starci la sconfitta, per carità, con l'Atalanta, una signora squadra. Non sto parlando dell'Atalanta, ma è una signora squadra. Tutto quello che crea, la verità delle cose che crea, è gol. Lui ha fatto otto azioni, no vabbè ragazzi, stiamo parlando davvero di una grande squadra, però noi non possiamo essere questi. Cioè, ci siamo sciolti come il burro, ci siamo sciolti come il burro, non è possibile essere questi. Dobbiamo subito correre ai ripari, subito, subito, subito. Ma io, giuro, pensavo di stare a un buon punto, non pensavo di stare così. Comunque ragazzi, dopo 24 secondi Dolgu già aveva sbagliato il gol e non mi ricordo chi altro. Dolgu dopo sei secondi, proprio, battiamo i tre tocchi, lancio per Dolgu. Poi, sempre Dolgu sbaglia solo col portiere, solo, vabbè, diciamo, però era in vantaggio sull'avversario che la mette fuori in diagonale. E basta, i primi 20 minuti. E poi, finita, finita la nostra partita. Loro facevano quello che volevano. Va bene, ragazzi, dai, la prima partita, ne parliamo meglio domani, però, davvero, oggi sto come pazzo. Ma sto male, davvero, sto... So pieno di rabbia, sto pieno di rabbia. Quindi, fatemi finire qua, perché altrimenti l'adrenalina mi porta a dire altre cose. Ciao.